Guardate questa mappa. Più di molte altre parole mostra l'incidenza degli aumenti delle tariffe autostradali, praticamente tutti concentrati nel nord del paese. È la sorpresa, ma in realtà annunciata, che si sono ritrovati dalla mezzanotte automobilisti e autotrasportatori per il 2014. E se il governo, per bocca del ministro delle infrastrutture e lupi, sostiene che in realtà si è sì trattato di aumenti, ma tutto sommato contenuti, grazie per l'appunto all'azione dell'esecutivo che avrebbe cercato di calmierare le richieste maggiori, ebbene c'è chi invece non ci sta e minaccia prossime azioni di protesta, rievocando non a caso il movimento dei forconi, che proprio negli autotrasportatori vede una delle sue colonne portanti e organizzative. Perché se è vero che la media dei rincari si aggira sul 3,9% a fronte di una richiesta media delle società concessionarie del 4,8%, richiesta che peraltro, bisogna dirlo, contrattualmente è dovuta, ebbene è anche vero che in alcune tratte gli aumenti sono decisamente più consistenti. Basti guardare alla Venezia Trieste, dove il pedaggio crescerà del 12,9%, o le autostrade A22 e A25, dei parchi che aumentano il pedaggio dell'8,28%. Il problema è che, per l'appunto, l'adeguamento delle tariffe sarebbe automatico e dunque l'azione del governo necessariamente limitata. E se il capitolo autostrade è quello che ha fatto più discutere, non bisogna dimenticare gli altri ritocchi, purtroppo sempre al rialzo delle tariffe elettriche, con un più 0,7%, gli aumenti annunciati dei servizi bancari, assicurativi e dei trasporti locali. E infine, per non farsi davvero mancare nulla, anche il rincaro di caffè e merendine, quelle erogate dai distributori automatici per i quali scatta, anche se in effetti non si tratta di un obbligo, l'adeguamento dell'IVA, che come si ricorderà, alla fine di settembre aumentò di un punto dal 21 al 22%, a causa delle fibrillazioni del governo, nonostante tutte le rassicurazioni fornite fino a quel momento.